È pronto il nuovo archivio del comune di Ballabio che è stato realizzato nei tempi previsti e usufruendo solo di risorse comunali. Questa struttura è molto importante perché va a risolvere un problema dell'attuale archivio che è situato nella soffitta della villa comunale e quindi per ragioni di sicurezza e di efficienza era opportuno oramai sostituire. Quindi abbiamo una nuova struttura e soprattutto l'accesso alla sala consigliare che viene utilizzata anche per molti matrimoni avveniva solamente tramite una scala. Invece adesso con il nuovo ascensore è diventato quindi molto più funzionale. Abbiamo anche risolto il problema dell'accessibilità per quanto riguarda le barriere architettoniche. Una terrazza molto ampia che è praticamente il doppio della precedente che potrà essere utilizzata anche per altre funzionalità, per, non so, mi viene in mente magari delle letture oppure dei piccoli concerti, ecco, potrà essere utilizzata a tutto tondo. E questa struttura che particolarità ha? Perché contiene documenti anche dell'800. Sì, la caratteristica principale è la capacità di avere una grande portanza, quindi di poter portare, sostenere il peso di tonnellate di carta. Quindi è stata progettata in una maniera ben precisa dall'architetto Prandi e praticamente invece per quanto guarda l'involucro è stato fatto con del legno in modo che fosse molto leggero.